Il Senegal ha una relazione molto forte con l'Italia, con il governo centrale italiano. Adesso stiamo lavorando per sviluppare le relazioni tra Senegal e le regioni d'Italia. È la regione di nostra presenza qui in Bari per lavorare con la Fiera di Levante, per l'autorità centrale, la gestura e tutti gli investitori italiani per sviluppare le relazioni con il Senegal. E con una curiosità, quanti italiani ci sono nel Senegal e che attività svolgono essenzialmente? Abbiamo italiani nel settore della costruzione, abbiamo italiani nel settore della pesca, abbiamo italiani nel settore turismo. Abbiamo approssimamente 2.000 italiani nel Senegal. Un resto conto di questa edizione della Fiera di Levante? L'edizione della campionaria è stata sicuramente un'edizione che ci ha visto proiettata a quello che deve essere il futuro. Cioè una campionaria settorializzata con specificità di espositori che stanno sempre puntando sulla qualità della propria offerta. L'abbiamo visto soprattutto nell'arredamento, ma andremo a costruire quello che è il futuro. Dunque la campionaria è stata un ottimo anno zero mio, perché è stata la mia prima, ma con un risultato importante sia in termini di visitatori che di espositori. È la campionaria degli espositori e lo sarà sempre di più.